A Natale dovremmo essere tutti più buoni, ma non quando si tratta di giudicare decorazioni e luminarie. In particolare è l'albero di Natale a suscitare maggiore attenzione da parte dei cittadini che ogni anno, indipendentemente dall'amministrazione comunale alla guida di palazzo mercanti, si dividono sotto l'albero tra chi apprezza, chi ironizza e chi si scaglia contro l'assessore al commercio di turno. Tra le scelte più divisive c'è quella che porta ad allestire, invece che il classico abete, una struttura artificiale, come accaduto quest'anno e nel 2020, quando l'amministrazione, allora guidata da Patrizia Barbieri, definì albero di Natale ecologico il cono di luci che ebbe il compito di illuminare le festività arrivate al termine di un anno tragico, segnato dal dolore provocato dalla pandemia da Covid. Nel 2020, come oggi, furono diverse le polemiche. Se si chiama albero di Natale e non cono di Natale ci sarà un perché, la domanda che si sono fatti diversi cittadini. Altri invece premiano la scelta definendola più sostenibile e attenta alla natura. Sicuramente bisogna dare ragione all'attuale assessore Simone Fornasari quando dice che accontentare tutti pare impossibile. L'anno scorso, dall'Alta Valnure, arrivò in Piazza Mercanti un grande abete che catturò l'attenzione dei cittadini per il travagliato percorso che dovette affrontare prima di approdare in ritardo a Piacenza. La cerimonia di inaugurazione slittò l'8 dicembre e l'albero di Natale passò alla storia con diversi appellativi, Stortello, Stortignolo, Spennacchio, in ricordo dell'omonimo romano, e anche Spider Tree, con riferimento diretto al posizionamento, per i tanti un po' maldestro, delle luminarie, molto somiglianti a delle ragnatele. Polemiche e ironie sono aumentate nel corso degli anni anche grazie in particolare all'utilizzo dei social, dove si fa gara per la battuta più divertente o il commento più perfido. Nel 2019 l'albero fu donato da Carpaneto e le polemiche non riguardarono tanto l'abete in sé, ma come venne addobbato una volta arrivato in Piazza Cavalli. Tornando indietro nel tempo, nel 2017, dopo anni in cui l'albero venne sostituito da stelle illuminate e comete scintillanti, arrivò un abete alto 9 metri da Bolzano. Anche in questo caso le critiche non mancarono. Al contrario, nel Natale 2013 fu caratterizzato da un albero piccolo con qualche decoro rosso e impreziosito da una lunga cascata di luci. In quell'occasione Piacentin divisi tra chi commentava con il detto né carne né pesce e chi apprezzava l'originalità dell'installazione.